Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono il radarista Cancelletto1, farò la recensione di un film nel 1987 Cripsho 2, un'antologia di racconti dell'orrore firmati da Stephen King, una statua vendica un delitto, un gruppo di adolescenti viene assalito da una creatura gelatinosa, una donna ricca e insensibile paga lo scotto delle proprie responsabilità, il mio voto a questo film è 7, ho dato questo voto perché il film mi è piaciuto, mi sono piaciute molto le scene del film, l'interpretazione e la sceneggiatura, è di genere dell'orrore, la durata è 1 ora e 32 minuti, il regista è Michael Gornick, la regia è buona, bravo il regista, il paese di produzione Stati Uniti d'America, la data di uscita negli Stati Uniti, il primo maggio 1987, l'attore è Stephen King, bravo attore, nel film anche Tom Savini, Dominic John, Jeremy Green, Lois Childs, George Kennedy, Holt McCalney, Dorothy Lamour, Paul Sutterfield, Paige Anna, Daniel Beer, Tom Wright, Don Harvey, Frank Salcedo, Dean Smith, David Beckcroft, Joe Silver, Dan Cammin, David Holbrook, Danny Cammin, Patricia Talman, saluto Samu Brina, Citta, Aliciotola, Markolf, Kevin, Gigi, Michele Trigigliani, Favij, Picchiatore, Bulluni, Ivan Drago, Anna, Il Trio Medusa, Festival, Peter Team, Domenico, Leo Tassoni, guardate questo video, lasciate dei commenti, lasciate dei like, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram, arrivederci al prossimo video, spero che questo video vi sia piaciuto.